Ci manca un punto domenica con Giulia Nove per poter festeggiare. Dispiace perché dopo un minuto o due minuti eravamo in vantaggio, però alla fine il Fondi ha meritato il pari, ha fatto una buona partita. Direi che le squadre, due squadre equilibrate dove hanno giocato tutti e due bene a tratti, però credo che alla fine è giusto che chi anche ormai non c'è più niente da dire al campionato si gioca le partite come ha fatto il Fondi, perché il Fondi ha fatto una partita e la signora squadra ha dimostrato di essere una squadra competitiva. Mi meraviglio che in classifica sia a 44 punti perché è una squadra che secondo me gli mancano 10-12 punti ad occhi chiusi se gioca così come ha giocato con noi.